Buonga, senti una cosa, qua sono loro tre come tu ben fai. Come? No, come tu ben fai, sono tre. Vabbè, chiede qualsiasi cosa non esiste, perché ti è aspettato, una cucina come la usa il cadavolo. Sì, ma sono tre, sì, sono due vicini di nichi, perciò. Dove tu? Se tu vieni e vieni con noi, noi te lo facciamo subito, ma due non ce la potevamo fare mai mai guardare tre persone. Come faccio a prendere un lavoro con i vecchi? Sotto bene, poi nella parte della banda. Sotto bene, quando facciamo tutti i treni, prendiamo uno per ogni cristiano, avremmo i cosi. Noi abbrattiamo e ne facciamo, ma due non ce la potevamo mai guardare tre cristiani, perché avremmo usato la prima lama all'altro. Perciò, che puoi fare? No, 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 non faccio vedere. Se tu vieni, non facciamo subito, sennò, prendiamo un'altra e ne scendiamo. Aspetta, 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 non c'è mezz'ora. No, no, no. No, 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 no. E se ne nascendiamo, magari che nessun nese comun città siamo. Non si potrà montare le sede, perché la mafia era una mensuola da morire dentro. Non avemmo, abbiamo materiale. Tu dici? era io con la macchina quella mia è stato il cavo paese è stato il paese guardavo tutta la situazione cosa faccio ora? perché la cosa è che mi decine non lo barre con le persone non lo barre in quattro è tranquillo perché non devi fare bicchiere qualche telecana non lo posso sono nessuno fra i 5 e 10 minuti aspettiamo aspettiamo la fine di cena meno 4 aspettiamo la fine di cena meno 4 ciao